Qua non c'è niente, però mi sa tanto di zona cesta, ma in realtà, vabbè, non c'è niente, ci accontentiamo E altro parkour? Altro parkour, che credo proprio sia simile all'altro Sperando di non morirci, anche sto gi... cioè, non anche sto giro, non siamo mai morti in realtà Speriamo semplicemente di non morirci, ma soprattutto speriamo di trovare una bella cesta di quelle belle, importanti Dai, questa è una megabase, cioè, proprio... questa è una megabase Sì, se riuscissi a salire... niente, non riesco a salire uno scalino Perfetto, bravo Master, tu sì che sei un pro player, bravo, continua così Qua c'è un megaparkour da fare, quindi mi sa proprio che c'è roba interesting Devo solo capire come fare il parkour, quindi, dato che non ho voglia di rischiare e morire, passiamo dal lato Com'è giusto che sia, cioè, in realtà non è giusto, però, hey, passiamo dal lato Cioè, tipo, se io facessi una cosa del genere, quanto rischio c'è di morire? Tantissimo, mi piace Oddio, non voglio morirci adesso Se voi adesso calcolate che non riprendiamo più le nostre cose, eh Proprio mai più Tacca, 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 no, no, non voglio volare, non voglio volare Cioè, sì, in realtà sì, ma no Voliamo qui dentro Dai, fammi scendere, fammi scendere Fammi scendere Fammi scendere No, dai, no, no, ok Ma una cesta, no, eh Ma una santa cesta Niente Va bene Va bene Va bene, niente, io continuo a usare la stessa tattica Stavo cadendo Dicevo, continuo a usare la stessa tattica Ovvero, no, non voglio passare da fuori Qua è bello alto Sentite come sputano, sentite come sputano sti I lot, vai, c'è, distruggi, distruggi Eh, niente, stiamo volando Stiamo volando, eh, ma poi qua mi fanno cadere No, fermi, fatemi, no, eh, niente Devo stare in traiettoria con Con gli scalini, altrimenti muoio Eh sì, altrimenti mi sa che muoro Dai, 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 oh, quanto dura sto coso Ok, perfetto, perfetto Se sbaglio il parkour è la fine E mi metto a piangere Ok Qua mettiamoci questo, va Dai, qua c'è per forza Per forza, no, eh Allora, nella barca c'è di sicuro Mettiamola così Nella barca la cesta la troviamo di sicuro Però, dato che non voglio cadere Mettiamo questi Dicevo, però, oltre alla barca Cioè, non è che uno vuole solo trovare le cose nella barca Le vuole trovare anche di qua Quindi, ci hanno fatto salire Grazie, grazie Tanto se cadiamo da qua non moriamo Uccidi, uccidi Perfetto E aspettiamo qua sopra Ok Dai, è impossibile che solo nella barca No, è impossibile È impossibile E invece mi sa tanto che sono solo nella barca Ok Intanto queste me la prendo Quindi facciamo così Andiamo Ah, basta, basta, basta Scendi, 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 scendi Scendiamo, piano, piano Va bene, mi sono spaccato un po' le gambe Ma non troppo Dicevo, potrei lanciare un enderpearl Sì, ma no Quindi, quanto ma... Dai, 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 devo far veloce, mi manca pochissimo, mi manca pochissimo Dai, 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 dai No! 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 Sì, qua, 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 qua Bloccati, bloccati, perfetto, siamo salvi, siamo salvi, siamo salvi, siamo salvi Oddio che ansia, oddio che ansia Ora li disintegro, li desintegro No, no, vi prego, basta, vi prego, basta No, sto volando, signori, sto volando alla fine È la fine, devo prendere le scale Devo prendere le scale, devo prendere le scale Basta colpirmi Ma se tipo lanciassi un enderpearlì Sono un genio, sono un genio Sono un genio Sì, signori, sono un genio Via, via, scendi, scendi, scendi Uh, figo quello Ceste e antelitra Sì, l'ho vista No, allora, calma, zitti Allora, fermi Allora, una cosa alla volta Prima di tutto Spacca, 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 spacca Ok, va bene, va bene Se volo qui va bene Dai, morite C'è pure della Uh, che figo C'è della Vabbè, dai, avete capito Allora Elytra Sì, ma prima Questo, ok Allora, cesta Cosa mi dai? Un botto di roba Corsetto di fe Oh Allora, fermi Fermi Allora, capiamoci E mettiamo via le cose inutili Del tipo La farina La mettiamo via Ne abbiamo un casino Il blocco lo voglio tenere Tanto per Tre di carote Le mettiamo via I slime mi possono servire Quindi intanto prendiamo Vabbè, questo A caso Affilatezza Quattro saccheggio Tre riparazioni Cioè, quella fa dodici La mia tredici Carina Ce la terremo buona E poi cos'altro posso metter via Vabbè, il ferro Dai Ok Respirazione Protezione Perfetto Questo lo posso upgradeare Così lo cambio Perché Beh, oddio però Vabbè, non lo so Vediamo Poi cos'è che c'è Diamanti A caso Totalmente a caso Presi Presi Questa Va bene Non mi serve Metto via Quattro dell'ende Prendo i ciottoli A caso Costruiremo Con i ciottoli Ok Ma signori Quella che noi tutti vogliamo Sbavam Le litra Che io per ora Non la voglio usare Perché non son capace Non son capace Ad usarla Quindi per ora Non la utilizziamo Qua sotto Non c'è niente di Che E ce ne andiamo Ci prendiamo pure questo? Ah C'erano delle pozze Aspettate un attimo Va Togliamo l'arco Che pozione è questa? Ok Pozione di cura Vabbè me la tengo Me la tengo Quindi Il nostro viaggio Oddio Come ci torniamo a casa adesso? Come ci torniamo a casa? E soprattutto A cosa serve questa scala? Solo per bellezza? Sì Decisamente Solo per bellezza E per rischiare La morte Quindi L'elitra l'abbiamo presa La testa di drago Si potrà prendere Non si potrà prendere Non lo so Nel dubbio Magari do un'esplorata veloce Se trovo qualcosa ve lo dico Se non trovo qualcosa Tipo questo shulker box Deve morire Ok Se non trovo niente Ci vediamo Appena ritorno a casa Al portale Vabbè ci vediamo dopo E ragazzi Cioè stavo guardando un video Per cui ho detto Ma secondo me si può trovare La testa di drago E infatti Quindi Come la Come la scavo? Testa di drago? Ok Sì Sì Aspettate un attimo Sì Oddio Oddio Sono un drago Sono un drago Dai che figata Che bello Che bello Sono contentissimo Quindi signori Adesso possiamo Tornarci in a casa Adesso posso farvi un taglio Bravo Massa Che hai visto il video Auto 5 Boom Ci vediamo dopo Questa volta davvero A casa Amici E' stato un viaggio Lungo e difficile Vi ho fatto il taglio Chiaramente Ma è stato un ottimo viaggio Buttiamoci Sì Boom boom Sì Minecraft Sei stato sconfitto E adesso ci porta a casa Di notte che schifo Ma pur sempre casa Sì Ok signori Questo episodio E' stato l'episodio E' l'apostrofo Episodio Punto esclamativo Ciao casa Quanto mi sei mancato E' da tantissimo tempo Che non ti vedevo Che bello Che bello E qua dentro Perché c'è sta roba Qua dentro Perché c'è sta roba Qua dentro Ci mettiamo tutte le cose Del nether E anche l'elytra Elytra Cosa? Mica si diceva Elytra 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 Alla francese Elytra Che bello Ci mettiamo pure La testa di drago Per ora la lascio qui Così poi voi Nel prossimo episodio Mi dite cosa farcene Oddio quanto è pieno Vabbè Mi organizzerò bene Per il prossimo episodio Quindi credo proprio Che A parte il fatto Che devo mettere via Questi diamanti E ha pure E ha paura Gli smeraldi Che ne ho 24 Perfetto Quindi signori Credo proprio Che sia stato Un episodio Stupendo Non so quanto è durato Ma credo un bel po' Di più Dei soliti Io salvo ed esco E mi tolgo le cuffie Come alla fine di ogni video Non sono uscito Ok perfetto Questo episodio Spero che vi sia piaciuto Vi deve essere piaciuto Vi ringrazio per la visione Scrivetemi nei commenti Cosa farci con la testa di drago Con l'uovo Anche Con l'uovo E non lo so Magari altre cose classiche Che poi ovviamente Vado sempre a seguire i vostri commenti Dovrò fare anche la farm di Enderman Vi ringrazio per la visione Vi do appuntamento domani Nel solito ero Vero due e un quarto Con un nuovo video Ciao La testa di drago Figata totale Boom